Ciao a tutti, sono Cristiano, architetto di Intervi d'AstoDesign. Siamo a Bologna, nel centro storico, in uno di quegli appartamenti che hanno un soffitto molto alto. Il cliente ha richiesto una libreria su misura per la nostra altezza. Abbiamo montato una libreria da 3,90 con un'altezza di 2,90 metri, tutta a giorno. La struttura e i ripiani sono da 25 mm, realizzata in pannello ecologico con finitura in bianco dei capelli. Nell'ultima zona abbiamo ricreato il vano per la tv, i-fi e tutti quegli elementi che occorrono per la tecnologia odierna. L'altezza può essere differenziata a seconda dell'altezza della volumetria dei libri. Per tutte le informazioni sulle nostre librerie su misura, visitate il nostro sito www.dustdesign.com e di nostri canali social Facebook e Google Class.